Allora Andrea, ciao, innanzitutto dici un po' chi sei e che cosa fai. Sono Andrea Mastalli e da ormai dieci anni mi occupo dello sviluppo di applicazioni, prima web e a questo punto direi mobile, e sono il promotore di tutte queste iniziative di cui poi parleremo. Siete invece i lavori su cui siete oggi, su cui state lavorando oggi, che cose sono? Allora, principalmente in questo periodo abbiamo lanciato WinCheck, che è un sistema per la verifica delle schedine Sisal, Superanalotto e Win4Life. Abbiamo fatto questo sistema che permette di utilizzare la fotocamera e inquadrando la schedina, un sistema di pattern recognition intercetta il codice a barre che è inserito nel basso della schedina, lo codifica, quindi lo trasforma in quel codice che è stampato sulla schedina, lo invia al server della Sisal e quindi ottiene le informazioni se il ticket è vincente o non vincente. Poi abbiamo in cantiere altri due lavori più impegnativi, più importanti anche se vogliamo, e uno dei due è Meatpoint, che nasce dall'esigenza di dire, di coprire quell'ultimo miglio, se vogliamo chiamarlo così, dell'appuntamento classico fisico. Questa è praticamente una sorta di bussola, proprio bussola vera e propria, che mi indica la direzione che devo seguire per arrivare a destinazione. La domanda è un po' banale, però forse interessa chi incomincia a cimentarsi in questo campo, cioè quanto ci vuole a sviluppare, una volta avuto l'idea, quanto ci vuole a sviluppare un'applicazione? C'è un'applicazione che possono essere di, secondo me, di estremo successo ed essere di livello zero, cioè cinque giorni di sviluppo. Dai cinque giorni in sudicia. Sì, probabilmente ci possono essere delle cose anche che si fanno una notte, però una notte molto intensa, quindi una notte di 12-14 ore probabilmente porta a qualcosa. Quali sono, secondo te, le nuove potenzialità dello smartphone rispetto al PC o al computer class? La grande differenza è quella di avere a disposizione lo store su cui pubblicare il proprio prodotto e poterlo mettere in vendita worldwide in una settimana senza avere grossi problemi. Quindi questa è la grossa differenza. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.